Si attenderà da parlamentare al momento del via ufficiale della campagna elettorale o attenderà l'esito del voto amministrativo? Per quanto riguarda le dimissioni bisogna fare chiarezza perché non sussiste, se non ho capito male, alcun obbligo di legge. Però io per correttezza ritengo che sia giusto rimettere le dimissioni in mano al capogruppo e al segretario nazionale del partito.